ciao graziano buongiorno ciao bello da dove arrivi corregio corregio il paese di riga fatti fare una foto senza mascherina dai sono contento di averle fatte perché sono esperienze anni 24 anch'io gli ho avuti 24 anni anche io posso dire di averla avuta ok ci sono tolto questo dubbio immagino che ti sei già messo a lavorare immagino che lavori già si è già 5 anni che lavora meno male che c'è qualcuno che produce per noi pensionati che lavoro fai? e lavoro in fabbrica ok cioè? e assembliamo materiali in serie ok ci vediamo più tardi dai ciao 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 con le uccelline, com'è, ok stava andando questa Gabri, sì sì, sì, anche io ancora